Non aveva il dono della fede, non era credente, ma ha fatto parte salire, aveva un cuore buono. Dota che passa va bene spassi. E lui ha il dubbio che papà per non essere credente non potesse andare in cielo. Se una persona è gai, si una persona è gai, si chiede il Signore con buona volontà, chi sono io perjudicabile? Non mi giude, non mi giude, è troppo facile quando non lo sappiamo. La maggior parte dei habitanti del planeta si declarano creyenti. Questo dovrebbe provocare un dialogo tra le religioni. Muchos piensano distinto, sienten distinto. Creo nel amor Creo nel amor Creo nel amor Creo nel amor L'importante è d'aimare Pour tutto donare L'importante è d'y croire Sans s'en apercebare Combien di queste persone si sono scelte perché non si sono scelte accolte, scelte e ammata? Combien di persone si sono scelte di paroissi per questa ragione? Per un chrattino anche, sapere a amare non è qualcosa di da qui... Sapere a amare Per le autorità competenti È un acto di amore E aiutare A che la maggior parte della gente lo faccia È un acto di amore Amore a uno stesso Amore a uno stesso Amore a gli familiari e amici Amore a tutti i popoli Le pido a Dio Per che cada uno possa portare Su piccolo grano di arena Su piccolo gesto di amore Un gesto di amore È tutto ciò che spero Un gesto di amore Per il prossimo milenio Un gesto di amore Un amore Un amore Un gesto di amore Che non potremo mai fare Padre, pensiamo a coloro che hanno rinnegato la fede che sono degli apostati che sono i persecutori della Chiesa Che hanno rinnegato il loro battesimo Anche questi sono a casa? Sì, anche questi Tutti I vestimenti Tutti Siamo fratelli Questa è la comunione dei santi Che non mi ricordiamo Grazie a tutti.